Viaggio in giro per la città sul trenino, breve allenamento e poi rinfresco. E' iniziato così la stagione del settore giovanile del Sesto Elevante, che da quest'anno è guidato da Ugo Bongiorno. Per lui un ritorno nella cantera corsara. L'ultimo anno sono stati sette anni fa, ho fatto i 95 da allenatore, e mi ritrovo a essere di nuovo nella famiglia del Sesto Elevante, con una responsabilità doppia, perché faccio gli uniones nazionali e responsabile del settore giovanile. Un impegno secondo me molto importante, cercherò di svolgerlo nel migliore dei modi. Abbiamo già iniziato, oggi è iniziata la presentazione del settore giovanile Scuola Calcio. Mi sembra che il richiamo è stato effettivamente buono. I ragazzi sono partiti col trenino, sono andati a prendersi un gelato a Sestri, poi ritornano, facciamo un allenamento, poi facciamo questo rinfreschino finale, e poi riprendono gli allenamenti. Per quanto mi riguarda ho vissuto nel Sestri tutte le fasi presidenziali di Muzio, Gaburri e Arioni, quindi conosco bene la gente, bene la piazza, è una piazza difficile, che è esigente, quindi cercherò di fare il massimo possibile. L'impegno mio c'è sicuramente. Poi la riorganizzazione l'abbiamo già iniziata, uno staff abbastanza buono, anzi ringrazio quelli che c'erano prima, che hanno lasciato una buona base per cui lavorare.